partito il video signora garossi venga qua venga a trovarmi venga chiami un portatore per portare a casa questi perché noi non ce la facciamo non so adesso portare a casa come faremo guarda qua sono la bellezza di 23 o 24 cefali oltre 10 in due ne abbiamo perso 13 14 non abbiamo pescato nient'altro che cefali siamo pescatori di cefali il signore ci ha fatto pescatori di cefali ha detto a pietro ti farò pescatori di uomini e a noi due ha detto ti farò pescatori di cefali e qui è la dimostrazione limpida che si guarda guardi che roba i pescatori di cefali come fanno ma che pesce ma devi scappare fuori un po' davanti guarda 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 guard Vedi, noi siamo stati fatti pescatori di uomini, noi, noi, io e lui, noi due, noi due, noi due, mai così tanti in questo posto, eh, mai dire mai, eh, leviamo le ancore perché siamo stanchi, abbiamo già smontato tutto e sono le due, adesso il problema è portare la macchina, eh. Dei mettere il bidone, metto un dente, eh, corto un là. Ciao amici postinesi che voi pigliate sull'alborelle e le sgardolette, questi sono i pesci da griglia, eh, sì, dai, portiamo giù la roba, gioviamo sul bidone, dai. Ciao ciao, ciao amico Fabio.